I Ministeri degli Esteri e degli Interni stanno approfondendo la permanenza in Donbass di Edi Bozambo Ungaro, il 46enne di Porto Gruaro, morto lo scorso 31 marzo mentre combatteva tra le milizie filorusse e separatiste contro l'esercito ucraino. Farnesina e Viminale stanno approfondendo i suoi movimenti in Donbass, ma sotto la lente di ingrandimento anche la carriera militare di Ungaro. Nei due incartamenti sono finiti anche i video e le interviste registrate dal 46enne dopo il suo arrivo nella zona da sempre rivendicata da Mosca, in cui non faceva segreto di un ideale comunista politicamente strutturato e sul quale basare le proprie azioni. Non è tutto. A combattere in Ucraina, ma contro i russi, quindi con una posizione diversa, c'è Giulia Schiff, la 23enne di Mira espulsa dall'aeronautica dopo aver trascinato a processo otto alti ufficiali. Anche su di lei, partita volontaria inizio conflitto, sono in corso approfondimenti dei due ministeri. Il nucleo è sempre lo stesso, come abbia fatto ad arrivare a Kiev, quali siano stati e quali siano tuttora i suoi contatti, ma soprattutto che tipo di attività svolga sul territorio. Sotto controllo anche tutti i canali social.